Lo incontrò Mosè sul Monte Sinai, a Saronni. Io rimasi un attimo scioccato, poi mi sono sentito male. Ma non tanto per l'assurdità della risposta, ma per l'immagine che mi colpì. Perché, voi immaginatevi, cazzarola, Mosè aveva appena parlato con Dio, no, Coppizze e Fichi, e scende dalla montagna con le tavole della legge e davanti gli passa questo con la maglia ciclamino, in un presunto... Con la bici col nago. Esatto, una bici col nago, pensando fosse un premio della montagna, il Monte Sinai. Ma la cosa più drammatica fu una telefonata che non è mai andata in onda, su internet, ma che mi fece ridere tantissimo, era una telefonata di una signora che doveva indovinare quale fosse l'inno nazionale dell'Australia. La domanda era difficile, chi lo conosce di una signora nazionale dell'Australia. E c'era sto inno che si diceva... Canguri d'Australia. Canguri d'Australia. Sì, dai. Tra poco è tutto finito. Allora. No, ma faceva ridere perché... Sentiamo questo caspita d'inno dell'Australia e il concorrente non indovina. Allora, la telefonata. Pronto? Brondo. A me quando dicono Brondo, già un po' me fa. Brondo. Dico, buonasera, sì signora. Ha capito di quale paese fosse l'inno? No? Guardi, l'aiuto, perché poi andavamo veloci, quindi dico, l'aiuto è il paese dove vive l'animale con la borsa. Che animale è? Silenzio. Leone? No. No, no. No, il leone, insomma, il re della foresta qua. È partita con molti animali, cioè il leofando. È tutta una serie. Alla fine abbiamo finalmente raggiunto, dopo una decina di minuti, il kangro. Il kangro. Che è un po' il codice fiscale della bestiola. Però la signorina, la signora diceva il kangro. E questo, e quello ha detto, bene signora, il kangro. Dove vive il kangro? Ah, in Australia. No, signora, non in Australia. In Australia, in Australia. No, signora, non è in Australia. Ma come nel kangro, in Australia. Non gridi, signora, non è in Australia. Eh? Australia. No, mi segua. Signora, mi segua e si fidi. In Australia vivono gli uomini. Se gli uomini vivono in Australia. Le donne dove sono? A casa.